laterale che è il mini che è uscito mi ha spiegato col tagliato che trovo nella sua volta no no lo so secondo te perché mi avevo bestemmiato una volta che se mi sei perfettamente indietro perché cerchi di colpirlo costantemente ti prende che è una merda ma lo accetto no no non puoi accettarlo ma ci sta però che culo di merda qua che ha funzionato ma questi non sono bestababili specifichiamolo fatti sotto stronzo ce l'hai con me? ovvio che si che ce l'ha con me ah perché questo gioco è così di merda bello decisamente bello ah simbolo di lavare inizia finalmente sei contento vici? cosa? riccardo? eh sei contento? di cosa? non capisco di cosa dovrei essere contento per il fatto che c'è il simbolo dell'avarizia che è il simbolo dell'avarizia? il simbolo dell'avarizia ah ce l'hai? si se l'ho preso non so da chi però ok mimi il secondo adesso ti secondo te devo andare a vedere secondo me l'ho già ucciso e non me l'ho droppato sono sincero si sa solo quello a volte i boss quando si è in tre o in quattro sono veramente una cacchiazza via ragazzi via 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 oh che morta sta Lucatier ah si è vato una volta di troppo mamma mia non so come ho fatto a salvarmi dai ma che troio che sei ogni tanto continuo ad attivare grazie grazie